Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Materassi Materasso Camefort Deluxe 2 strati. Descrizione, Materasso Baldi Flex modello Camefort Deluxe 12-6 strutturato su due strati monozona in memory foam. Spessore esterno 19-20 cm. Rivestimento in tessuto anallergico antiacaro antibatterico. Sfoderabile doppia cerniera su quattro lati. Rivestimento lavabile in lavatrice a 30H. Fascia di areazione 3 space. Composizione, lastre di supporto in a water foam microcellulare. Primo strato, una lastra memory disco elastico memory foam a lenta memoria spessorea 6 cm densita 50 kg m3. Secondo strato, una lastra water foam spessorea 12 cm densita 30 kg m3. Garanzia, garanzia 10 anni su tutti i prodotti Baldi Flex. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.